24 dicembre 1927, nasce Più la Torre. Fra i capofila nelle lotte contadine nella Sicilia del 1945, nel 1972 viene eletto al Parlamento fra i deputati del Partito Comunista. Si batte per l'approvazione della legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e per quella sulla confisca dei beni ai mafiosi. Concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori. Per queste sue battaglie verrà ucciso il 30 aprile 1982 insieme a Rosario Di Salvo nella sua auto con raffiche di mitra. Per l'omicidio di Più la Torre, il 12 gennaio 2007, sono condannati nove boss mafiosi, fra cui Riina e Provenzano. La vita di Più la Torre è il simbolo di un mezzogiorno di un sud che non si è mai rassegnato alle mafie, allo strapotere delle cosche e che è riuscito ad andare avanti a qualunque costo, nel caso di Più la Torre purtroppo a costo della vita. La Torre era un palermitano, era nato in una piccola frazione alle porte di Palermo e veniva da una famiglia molto umile, il padre e la madre erano braccianti molto poveri. Lui sin da ragazzo si impegnò nell'attività politica, soprattutto appunto a fianco dei braccianti e poi si iscrisse prima alla CGL con una carriera da dirigente e poi al Partito Comunista Italiano. Nel 1976, eletto alla Camera, fu componente della Commissione Parlamentare Antimafia e autore della relazione di minoranza, in cui per la prima volta venivano accusati alcuni politici di intrattenere rapporti con Cosa Nostra. Si parlò di Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima. Rileggerla oggi, quella relazione di minoranza fa venire i brividi per la lungimiranza e la capacità di analisi che ebbe. Ma c'è un punto in cui la vita di Più la Torre prende una svolta che sarà decisiva e drammatica. Nel 1980, insieme a Virginio Rognoni, presenta la famosa, che poi passerà alla storia come la legge, Rognoni la Torre, quella che prevedeva il reato di associazione di stampo mafioso e soprattutto permetteva il sequestro dei beni agli esponenti di Cosa Nostra. Vorrei ricordare una frase che Più la Torre disse durante un'intervista con il grande giornalista Giuseppe Marrazzo. Noi proponiamo di concentrare l'attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori. Insomma, il famoso, che poi fu uno dei motti anche dei giudici Falcone e Borsellino, «Follow the money», seguite i soldi. Nel 1981, un anno dopo, Pio la Torre avverte la necessità di ritornare nella sua terra natia, in Sicilia, e chiede di andare a fare lì il segretario regionale del PC. Purtroppo un anno dopo viene assassinato insieme al suo autista Rosario Di Salvo. È uno scenario drammatico quello che si apre. Pochi giorni prima è stato assassinato Salvo Lima, che era appunto indicato come il trade union tra alcuni settori della democrazia cristiana e le cosche di Cosa Nostra. Ai funerali di Pio la Torre c'è anche il generale dalla Chiesa, appena spedito in anticipo a Palermo per coprire l'incarico di prefetto. Ricorderanno in molti la sua ultima intervista drammatica a Giorgio Bocca, un testamento che anticipò soltanto di pochi giorni la morte del generale assassinato con la moglie, anche lui in una strada di Palermo. A Palermo è accaduto che certi personaggi per lungo tempo hanno ritenuto di trovare nella presenza alla procura del dottore Scaglione una garanzia per l'equilibrio di potere mafioso a Palermo. Questo come dato oggettivo, direi persino al di là dell'intenzione di comportamento particolare del magistrato. In realtà questo è accaduto a Palermo. E allora le indagini, al di là poi di tutta una serie di induzioni particolari, che io non credo sia il caso di fare in questa sede, debbano essere rivolte alla ricerca di quale possono essere le forze che avevano interesse a colpire per determinare un silenzio definitivo attorno a certi fatti. La risposta operativa non può che avere due indirizzi. Da un canto una risposta repressiva, cioè una risposta da parte delle forze dell'ordine impegnate al loro massimo livello di efficienza e di funzionalità. E poi una risposta di carattere sociale ed economico. Ne parlava poc'anzi il ministro Rognoni. Occorre per la Sicilia, ma il discorso vale evidentemente anche per le altre regioni del Mezzogiorno, ricordare che le radici di questo profondo malessere sono delle radici lontane nel tempo e delle radici che trovano la loro consistenza nello squilibrio territoriale, nelle distanze che separano le due Italie. Quindi c'è un ammonimento per tutti. Pur essendo una fase di sviluppo e di crescita della Sicilia, parliamo adesso ma poi vorrei poi sentire anche sul Mezzogiorno anche da altri partecipanti a questa discussione, ma la Sicilia è in una fase, per quanto leggiamo, per quanto dicono le statistiche, di robusta crescita, di robusta espansione economica. Ma talvolta è proprio lo sviluppo, la crescita che determinano questi fenomeni acuti perché fino a quando tutto ristagna e tutto sta fermo un certo tipo di reazione da parte della criminalità organizzata è meno acuto. Ma quando ci sono degli sviluppi accelerati ed allora è più evidente il tentativo di riportare la politica sotto il segno di un'oppressione dall'esterno, di un controllo dall'esterno. Cioè in un certo senso è una lotta di vecchie organizzazioni e di vecchi centri di potere contro un qualche cosa di nuovo che sta nascendo o questa è una visione troppo ottimistica di quello che accade? Ma io vorrei dire che l'intreccio che sta al fondo di questi delitti è sempre un intreccio molto complesso e molto oscuro. Non è facile indagare sulle ragioni che provocano una catena di crimini come quelli che abbiamo vissuto e sofferto in Sicilia. E quindi probabilmente c'è l'una cosa e l'altra. C'è la vecchia sfida di forze che sono abituate a esercitare una loro forte compenetrazione sociale da molti decenni e poi ci sono anche altre forze nuove che si muovono con un impeto che proviene in gran parte proprio dalle esigenze e dai caratteri dello sviluppo.